Buon pomeriggio a tutti dall'Avvocato Maria Sabina Lembo del Foro di Potenza. Vediamo adesso insieme quali sono le modifiche al codice di procedura penale che sono state introdotte dalla cosiddetta riforma cartabbia, ovvero dal Decreto Legislativo numero 150 del 2022. Vi citerò quali sono gli articoli che sono stati interessati, quindi o dei nuovi articoli o comunque degli articoli modificati. Partiamo dall'articolo 24bis, rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per la decisione sulla competenza per territorio. Articolo 60, assunzione della qualità di imputato. Articolo 78, formalità della Costituzione di parte civile. Articolo 79, termine per la Costituzione di parte civile. Articolo 90, diritti e facoltà della persona offesa dal reato. Articolo 90 bis, informazioni alla persona offesa. Articolo 90 bis 1, informazioni alla vittima di cui è l'articolo 42,1 lettera B del Decreto Legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021 numero 134. Voi sapete che la 134 del 2021 era la legge delega, da cui poi è scaturito il Decreto Legislativo 150 del 2022. Poi, altro articolo, 110, forma degli atti. Articolo 111, data e sottoscrizione degli atti. Articolo 111 bis, deposito telematico. Articolo 111 ter, fascicolo informatico e accesso agli atti. Articolo 116, copie estratti e certificati. Articolo 122, procura speciale per determinati atti. Articolo 125, forme dei provvedimenti del giudice. Articolo 127, procedimento in Camera di Consiglio. Articolo 129 bis, accesso ai programmi di giustizia riparativa. Articolo 133, accompagnamento coattivo di altre persone. Articolo 133 bis, disposizione generale. Articolo 133 ter, modalità e garanzie della partecipazione a distanza. Articolo 134, modalità di documentazione. Articolo 135, redazione del verbale. Articolo 141 bis, modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione. Articolo 148, organi e forme delle notificazioni. Articolo 149, notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo. Articolo 152, notificazioni richieste dalle parti private. Articolo 153, notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero. Articolo 153 bis, domicilio del querelante, notificazioni al querelante. Articolo 154, notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Articolo 155, notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese. Articolo 156, notificazioni all'imputato detenuto. Articolo 157, notifiche all'imputato non detenuto successive alla prima. Articolo 157, notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto. Articolo 159, notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità. Articolo 160, efficacia del decreto di irreperibilità. Articolo 161, domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni. Articolo 162, comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto. Articolo 163, formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto. Articolo 164, efficacia della dichiarazione dell'elezione di domicilio. Articolo 165, notificazioni all'imputato latitante o evaso. Articolo 167, notificazioni ad altri soggetti. Articolo 168, relazione di notificazione. Articolo 169, notificazioni all'imputato all'estero. Articolo 170, notificazioni col mezzo della posta. Articolo 171, nullità delle notificazioni. Articolo 172, regole generali. Articolo 175, restituzione nel termine. Articolo 175 bis, malfunzionamento dei sistemi informatici. Articolo 252 bis, opposizioni al decreto di perquisizione emesso dal Pubblico Ministero. Articolo 293, adempimenti esecutivi. Articolo 294, interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale. Articolo 295, verbale, divane e ricerche. Articolo 296, latitanza. Articolo 300, estinzione o sostituzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze. Articolo 304, sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare. Articolo 309, riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva. Articolo 311, ricorso per cassazione. Articolo 316, presupposti del provvedimento. Articolo 317, forma del provvedimento competenza. Articolo 320, esecuzione sui beni sequestrati. Articolo 335, registro delle notizie di reato. Articolo 335 bis, limiti all'efficacia dell'iscrizione ai fini civili e amministrativi. Articolo 35 ter, ordine di iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini. Articolo 135 quater, accertamento della tempessività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato. Articolo 344 bis, improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. Articolo 349, identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone. Articolo 350, sommare informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini. Articolo 351, altre sommarie informazioni. Articolo 352, perquisizioni. Articolo 357, documentazione dell'attività di polizia giudiziaria. Ancora articolo 360, accertamenti tecnici non ripetibili. Articolo 362, assunzioni di informazioni. Articolo 369, informazione di garanzia. Articolo 370, atti diretti e atti delegati. Articolo 373, documentazione degli atti. Articolo 386, doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo. Articolo 391, udienza di convalida. Articolo 391, ter, documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni. Articolo 391, oxies, fascicolo del difensore. Articolo 401, udienza. Articolo 405, termini per la conclusione delle indagini preliminari. Articolo 406, proroga dei termini. Articolo 407, termini di durata massima delle indagini preliminari. Articolo 407 bis, inizio dell'azione penale, forme e termini. Articolo 408, richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Articolo 409, provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione. Articolo 412, avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale. Articolo 414, riapertura delle indagini. Articolo 415, riato commesso da persone ignote. Articolo 415, bis, avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari. Articolo 415, terra. Diritti e facoltà dell'indagato e della persona offesa in caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari. Articolo 416, no, 419, atti introduttivi. Articolo 420, costituzione delle parti. Articolo 420, bis, assenza dell'imputato. Articolo 420, ter, impedimento a comparire dell'imputato o del difensore. Articolo 424, sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato. Articolo 425, atti urgenti. Articolo 426, revoca della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo. Articolo 421, discussione. Articolo 422, attività di integrazione probatoria del giudice. Articolo 423, modifica dell'imputazione. 425, sentenza di non luogo a procedere. 428, impugnazione della sentenza di non luogo a procedere. 429, il decreto che dispone il giudizio. 438, i presupposti del giudizio abbreviato. 441, lo svolgimento del giudizio abbreviato. Articolo 442, la decisione. 444, l'applicazione della pena su richiesta. 445, gli effetti dell'applicazione della pena su richiesta. 446, richiesta di applicazione della pena e consenso. 447, richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari. Articolo 448, provvedimenti del giudice. Articolo 450, l'instaurazione del giudizio direttissimo. 456, decreto di giudizio immediato. 458, richiesta di giudizio abbreviato. 458 bis, la richiesta di applicazione della pena. 459, i casi di procedimento per decreto. 469, i requisiti del decreto di condanna. 461, opposizione. 462, restituzione del termine per proporre opposizione. 464 bis, sospensione del procedimento commessa alla prova. 464, terro 1, sospensione del procedimento commessa alla prova su proposta del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari. 464, sepsies. Esito della messa alla prova. 477, durata organizzazione del dibattimento. 483, sottoscrizione e trascrizione del verbale. 484, costituzione delle parti. 489, rimedi per l'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare. 493, richieste di prova. 495, provvedimenti del giudice in ordine alla prova. 496, ordine e modalità dell'assunzione delle prove. Articolo 501, esame dei periti e dei consulenti tecnici. 510, verbale di assunzione dei mezzi di prova. 519, diritti delle parti. 520, nuove contestazioni all'imputato non presente. 545 bis, condanna appena sostitutiva. 550, casi di citazione diretta a giudizio. 553, trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale. 554 bis, udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta. 554, ter, provvedimenti del giudice. 554, quater, impugnazione della sentenza di non luogo a procedere. 554, quinquies, revoca della sentenza di non luogo a procedere. 555, udienza dibattimentale a seguito di citazione diretta. 558 bis, giudizio immediato. 573, impugnazioni per i soli interessi civili. 578, decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnissia o per prescrizione o nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. 578, ter, decisione sulla confisca e provvedimenti sui beni in sequestro nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. 581, forma dell'impugnazione. 582, la presentazione dell'impugnazione. 585, termini per l'impugnazione. 589, la rinuncia all'impugnazione. 591, inammissibilità dell'impugnazione. 593, casi di appello. 595, appello incidentale. 598 bis, decisioni in Camera di Consiglio senza la partecipazione delle parti. 598, ter, l'assenza dell'imputato in appello. 599, decisioni in Camera di Consiglio con la partecipazione delle parti. 599 bis, concordato anche con rinuncia ai motivi di appello. Articolo 601, atti preliminari al giudizio. Articolo 602, dibattimento di appello. 603, rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. 604, questioni di nullità. 611, procedimento. Articolo 623, annullamento con rinvio. 628 bis, la richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dei protocolli addizionali. L'articolo 629 bis, rescissione del giudicato. Articolo 656, esecuzione delle pene detentive. 657, computo della custodia cautelare delle pene spiate senza titolo. 660, all'esecuzione delle pene pecuniari. Il 661, esecuzione delle pene sostitutive. Il 666, procedimento di esecuzione. 676, altre competenze. 678, il procedimento di sorveglianza. Articolo 703, gli accertamenti del procuratore generale. 717, l'audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva. E quindi qui abbiamo esaurito tutte le disposizioni legislative che hanno modificato o introdotto delle nuove norme nel codice di procedura penale. In un altro video vi dirò quali sono invece le modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.